Benvenuti nella mia top 4 dei fucili leggendari da cecchino Hyperion. Partiamo subito dalla quarta posizione, tutte le armi saranno senza consacrazione e vediamo il woodblocker. Potrete ottenerlo sconfiggendo l'indo tiranno a floodmore basin su Eden 6 con un 10% di possibilità di drop e cosa fa? Spara dei burst da 4 proiettili ogni volta che cliccate il grilletto. Fine. Non ha altre particolarità? Ha un danno pessimo e detto sinceramente non vi consiglio di utilizzarlo perché è veramente orribile e vi conviene utilizzare un'arma diversa. In terza posizione ho inserito il cecchino leggendario NARP. Potete ottenerlo sconfiggendo a Dommar e a Asphaltpix su Gehenna, quindi DLC3 con un 25% di possibilità. Cosa fa questo cecchino? Ogni volta che ricaricate l'arma otterrete un buff di danno al prossimo caricatore. Questo buff di danno dipende da quante munizioni erano rimaste nel caricatore precedente quando avete ricaricato. Quindi se andate a ricaricare con un proiettile rimasto otterrete 20% di danno extra per il prossimo caricatore, se ricaricate con due proiettili 40% eccetera fino a un massimo del 200% con 10 proiettili rimasti. Quindi quest'arma vi conviene utilizzarla, sparare ogni volta che arrivate a 10 proiettili, ricaricare per mantenere il bonus attivo e triplicare il danno in modo fisso. Anche il fire rate va ad aumentare intorno al 150-200% anche questo con il massimo delle stack. Inoltre aumenta anche la maneggevolezza e l'accuratezza, ma sinceramente la differenza non si vede essendo un Hyperion e aumentando la propria mira e stabilità dopo aver sparato. Al secondo posto vado a inserire il Masterwork Crossbow o Crossbow per accorciare un po' il nome. Lo potrete ottenere sconfiggendo Urist Mac Enforcer Electra City su Prometea con un 15% di possibilità di drop. E cosa fa? Ha sempre un singolo proiettile nel caricatore e spara un proiettile lento come una freccia con una traiettoria d'arco molto pesante che fa molto, ma molto, ma molto danno. Contate che il danno base di quest'arma è quello probabilmente più alto del gioco per un cecchino, 275.000. Inoltre ha anche un bonus del 65% del danno critico, quindi il danno critico farà tanto, tanto danno. È però difficile abituarsi alla caduta del proiettile e al percorso, ha una singola munizione, quindi non è possibile sfruttarlo in modo decente e comunque è un proiettile abbastanza lento. Contro i nemici in cui il punto critico non è facile da vedere o facile da colpire, sarà praticamente impossibile utilizzarla. E da proprio per questo che è solo al secondo posto. Infine, al primo posto ho inserito il Tanksman Shield. Potrete ottenerlo dal Capitano Tront sconfiggendolo a Mayhem 4 o superiore. A Mayhem 4 e 5 avrete un 30% di possibilità di ottenerlo, a Mayhem 6 e superiore avrete un 13,5% di possibilità di trovarlo. Su Atenas, appunto, su Atenas. E cosa fa? Ogni kill che fate va ad aumentare il danno del 40% per tutto il prossimo caricatore. Fino a un massimo del 200%, quindi quello che vi conviene fare è 5 kill, ricaricare. 5 kill, ricaricare. Purtroppo è un'arma che ha un danno relativamente basso, quindi riuscirete a farle sui nemici normali e abbaffare il danno, ma se vi trovate in un posto dove appaiono degli Epsaico invece che i nemici Malewan e ci saranno dei consacrati, beh, potete dire addio a quest'arma perché sarà completamente inutile. Questa era la top e, appunto, avete notato che non ci sono armi forti. I check in Iperion fanno abbastanza pena su Borderlands 3 e personalmente non vi consiglio di utilizzarli se non for fun. Di sicuro non sono viabili in endgame. Quello che invece potrebbe essere viabile in endgame è un assalto Jacobs. Cliccate qui per vedere la top 5 mia preferita di quelli leggendari. Cliccate qui per vedere la top 5 mia preferita di quelli leggendari.